Strategie diverse ma stesso obiettivo proclamare l'innocenza dei propri assistiti. C'è chi ha preferito non presentarsi come il capo della medicina sportiva all'ospedale di Cagliari, il dottor Astagno, chi invece ha scelto di andare davanti al procuratore della Repubblica senza ovviamente esibire sorrisi come Giorgio Galanti. Il prof, come è noto a tutti a Firenze davanti ai PM, non ha fatto assolutamente scena muta rispondendo a tutte le domande. 90 minuti, ironia della sorte, il tempo di una partita di calcio, di fuoco di fila senza poi fermarsi a parlare con i giornalisti delegando il suo legale per molti uno dei principi del foro fiorentino. Il professor Galanti ha inteso fin da subito, dal primo momento utile, ribadire la correttezza del proprio operato, la rigorosa osservanza di ogni norma, di protocollo, di lingue internazionali e di scienza medica in generale e quindi di avere adottato ogni cautela necessaria nello svolgimento del suo lavoro. Chiaro dunque da queste parole come il dottor Galanti si sia dichiarato non colpevole per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di Davide Astori avvenuto in un albergo di Udi nello scorso 4 di marzo, ma quando al suo avvocato viene chiesto che momento passi Galanti, non c'è però troppa possibilità di blef. Si sente come una persona che ha dedicato la vita alla medicina, allo sport, ai calciatori e che voleva particolarmente bene ai calciatori della Fiorentina e ad Astori in particolare. Alla fine dell'udienza il professor Galanti ha raggiunto lo studio legale del suo avvocato, intanto non è più il capo di medicina dello sport a Careggi nei giorni scorsi. Ha deciso di andare in pensione al termine di una carriera brillantissima, dove però adesso rischia di esserci una macchia proprio per l'ultimo periodo del suo operato. Grazie a tutti.